Buonasera. Qualche giorno fa mi è arrivata l'ennesima mail riguardante i sistemi switching, in particolare gli alimentatori. E siccome questa cosa mi fa comunque orrore a prescindere, ho deciso di affrontarla in un video dedicato. Quindi seguitemi in questa triste storia e vedremo dove arriveremo. No vabbè dai, scherzi a parte, che io non ami gli alimentatori di switching è un dato di fatto, forse però non deve essere del tutto chiaro il motivo per cui io non li ami. E di questo mi sono accorto da uno dei vostri commenti al mio video, non citerò nome e cognome, anche se non c'è nulla di male, perché voglio dire, è un commento assolutamente interessante, quindi ci starebbe, ma in ogni caso. Buonasera signor Germano, innanzitutto mi complimento, grazie, va bene. Vorrei capire meglio perché un'alimentazione switching impatta sul risultato finale. Considerando un segnale audio con spettro continuo da 0 a 20 kHz, ok, e un ripple sull'alimentazione da 200 kHz in poi, ok. Tutti i possibili prodotti di intermodulazione, quindi uno spettro risultante del disturbo ottenuto con la convoluzione dei due precedenti, ok. Non rientrerebbero nella banda audio, ok. Per non aver applicato disturbo, no, ci mancherebbe, anzi come vedi, è stato un buon pretesto per tirarci fuori un video. Spero che possa togliere qualche dubbio in più a tutti quanti, non solo a te. E quindi veniamo a noi. Allora, questo sarebbe un video da fare sotto il laboratorio, con tutti gli strumenti collegati, con un alimentatore switching da una parte, un alimentatore lineare dall'altra, analizzatore di spettro, generatore di segnali, tutto quello che di solito utilizziamo per fare questo video. Però io volevo evitare di ammazzarvi con un video troppo tecnico. Poi magari lo faremo anche in versione tecnica, però intanto cominciamo a valutare alcuni aspetti di massima, alcuni aspetti concettuali. Attenzione, per cortesia, non confondiamo. Non stiamo facendo della filosofia, stiamo facendo della tecnica, ma la stiamo facendo nella maniera più semplice possibile, senza usare paroloni e senza andare fuori dal seminato, in modo che più o meno chiunque possa comprenderla. Ok? Non confondiamo, non ci sono scuole di pensiero, non ci sono filosofie d'ascolto e altre vaccate di questo genere. Stiamo parlando di elettronica. E stiamo cercando di capire perché, come oggettivamente succede, un alimentatore switching dà dei problemi quando lo si usa in un circuito audio. Innanzitutto non dà dei problemi solo quando lo si usa in un circuito audio. Tutti i circuiti che devono avere una grande precisione nel trattare piccoli segnali, abborrono in generale l'utilizzo di alimentazioni switching e sono in generale alimentati con alimentazioni lineari più o meno precise. Poi le necessità di ogni circuito sono diverse e il tipo di alimentazione che si usa è diverso. Però, tanto per dirvi, in alcuni circuiti digitali si utilizza un'alimentazione lineare per avere maggiore precisione. Perché? Perché, come ci fa notare il nostro, gli alimentatori switching generano un ripple ad alta frequenza. Non è il ronzio a 50 Hz degli alimentatori che non funzionano. È un ripple ad alta frequenza, è un segnale ad alta frequenza. Lui mi dice da 200 kHz in poi e io rincaro la dose, ma perché non più su? Perché io posso fare un alimentatore switching che lavora a frequenze più alte. Cosa fa un alimentatore switching? Per diminuire il costo del sistema di alimentazione, seguitemi bene, gli alimentatori switching servono a diminuire i costi dei sistemi di alimentazione. Non servono ad altro, non servono a fare alimentatori ad alte prestazioni, non servono a fare chissà che, servono a diminuire i costi dell'alimentatore. Se noi avessimo un PC dei giorni nostri alimentato con un sistema lineare, sarebbe grosso come questo tavolo, ok? Invece possiamo utilizzare un alimentatorino grosso così per tirarci fuori un kilowatt d'alimentazione. È bello? È cappero? Sì, certo è bello. Però, ad esempio, voi sapete, parlando di PC, e permettetemi di divagare un attimino, ogni mainboard ha dei regolatori di tensione che vengono alloggiati molto vicini alla CPU per generare i voltaggi precisi che servono a farla funzionare. I voltaggi precisi sono voltaggi precisi nell'ordine delle frazioni di decimo di volt, quindi più stadi di alimentazione per arrivare a. Ma così lo cito solo come esempio. E quindi torniamo al nostro caso. Qual è la differenza fra un alimentatore switching e un alimentatore lineare? Beh, l'alimentatore lineare raddrizza direttamente una tensione a 50 Hz che ci viene fornita dal trasformatore d'alimentazione, la spiana con dei condensatori, con degli induttori, con quello che volete e ci fornisce un risultato che sarà una tensione continua con sovrapposto un residuo. Questo famoso ripple è il residuo di alternata che rimane sulla nostra continua e che in qualche caso disperato si può sentire sugli altoparlanti come un ronzio, un ham, come lo chiamano gli anglosassoni, un ham. Cosa vi suggerisce? Vi suggerisce quel ronzio a 50-100 Hz che sentite quando l'alimentatore non funziona. Ecco, gli alimentatori switching fanno una cosa un po' diversa. Loro generano una corrente alternata a frequenze molto alte, molto più alte dei 50 Hz. Prendono l'alternata da 50 Hz, la raddrizzano e ne fanno una continua. Poi un oscillatore genera nuovamente una tensione alternata ad altissime frequenze. Qui si parla di 200 kHz, ma ci sono dei circuiti di alimentazione switching che vanno su frequenze ancora più alte, quindi molto fuori dalla gamma dell'udibile. Dopodiché la regolano, la raddrizzano e generano le nostre tensioni basse che ci servono per far funzionare i nostri apparecchi. Allora, come fa a notare questa persona? Il ripple generato, quindi il residuo di alternata generato da questi alimentatori switching, a frequenze ovviamente molto alte, fuori dalla gamma audibile. Di conseguenza mai e poi mai sentiremo, perché non possiamo, perché sono ultrasuoni, il rumore del ripple sulle casse. Ne sentiremo prodotti fra il ripple e il nostro segnale. E qui parliamone un attimino, perché i prodotti fra il ripple e il nostro segnale possono essere anche a frequenze basse in realtà, non solo a frequenze più alte dei nostri 200 kHz che abbiamo nominato. Quindi su questo ci sarebbe da dire, visto che parliamo di circuiti non lineari, le interazioni sono molto più complesse e possono portare anche a prodotti di intermodulazione, chiamiamoli così anche se in realtà non è vero, sono prodotti di modulazione, mettiamola così, anche a frequenze udibili. Ma questo lo lasciamo da parte. Dicevo, ripple ad altissime frequenze non lo sentiamo negli altoparlanti. Proviamo a fare un ragionamento e facciamo proprio solo un ragionamento. Non facciamo disegni, disegnini, schemi, misure, eccetera. Facciamo solo questo ragionamento. E intanto il residuo di ripple tende ad essere abbastanza importante dagli alimentatori switching, proprio per loro natura, a meno di non mettergli dietro tutta una serie di menate assortite, tipo un altro alimentatore lineare che spiani questo brutto ripple. Questo ripple entra nel nostro circuito di amplificazione. E ci entra dalla porta principale, non proprio dall'alimentazione. Adesso i casi sono due. Abbiamo un circuito senza controreazione? Beh, ho capito, lo so, è pura follia mettere un circuito senza controreazione e alimentarlo con uno switching è come darsi una palata sui piedi senza ritegno. Però ammettiamo che... E questo è il caso tutto sommato migliore che può capitare. Perché sì, il circuito senza controreazione tenderà a far uscire il ripple sugli altoparlanti, però abbiamo detto questo ripple tutto sommato è inudibile. Quindi quantomeno non succederà nulla di grave. Quasi nulla. Perché in realtà, se voi andate a vedere dove sta lavorando il vostro amplificatore, il vostro amplificatore starà lavorando sia sul segnale musicale 20 Hz, 20 kHz, che è sul segnale spurio dell'alimentazione, starà amplificando anche quello. E questo non è esattamente un bel andare, perché se voi andate, sì, ad analizzare questo vostro segnale, il vostro amplificatore, vi accorgerete che sta erogando potenza su frequenze, sì, voi non le state sentendo. Questo non vuol dire che lui non le stia amplificando. Quindi una parte della potenza, una parte del lavoro che l'amplificatore potrebbe fare per amplificare bene il vostro segnale. Lo sta facendo per gestire altre frequenze, che voi non sentite. Però, e qui ve la butto lì, se queste frequenze dovessero essere sufficientemente ampie, voi vi trovereste l'amplificatore che sta clippando, quindi distorce da paura, anche se magari il vostro segnale, quello udibile, è a livelli molto bassi. Ok? Ho fatto un caso limite, chiaramente, ma solo per farvi un esempio. Cioè voi avreste il vostro amplificatore in clipping o con tassi di distorsione molto alti, senza sapere perché. Andando ad indagare un pochino più in fondo, trovereste che il vostro amplificatore sta semplicemente lavorando, mentre voi non ve ne accorgete. Veniamo però a una situazione tristemente molto più comune. State usando il vostro alimentatore switching dei miei stivali con un amplificatore controreazionato. Oh, sì, 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 perché bisogna patire fino in fondo, ma non sono ancora arrivato al massimo patimento. Qual è la caratteristica dell'amplificatore retroazionato, magari fortemente retroazionato? La caratteristica è che il segnale in uscita sarà estremamente simile al segnale di ingresso numericamente. Lasciamo perdere tutte le considerazioni fatte, però lui cerca in ogni modo di produrre un segnale in uscita più uguale possibile a quello che gli entra, eliminando, attenzione, anche i disturbi sull'alimentazione. Esiste un parametro si chiama PSRR, Power Supply Rejection Ratio, cioè rapporto di reiezione dei segnali sull'alimentazione. I circuiti controreazionati tipicamente hanno una capacità di eliminare questi disturbi molto alta. Quindi voi sulle casse questo disturbo a 200 kHz, diciamo così, non ve lo troverete. Anche andando a misurare ne troverete quasi nulla, cioè un ma. Perché se voi andate a vedere i video fatti sulla controreazione, in realtà mentre il vostro amplificatore sta amplificando il vostro segnale, sta facendo una lotta impari per eliminare il disturbo. Cioè questo PSRR degli amplificatori retrazionati non viene gratis. Il vostro amplificatore sta impiegando parte della sua dinamica, parte della sua potenza, per eliminare un disturbo. Quindi, per, chiaramente ragionando agli estremi, potreste arrivare al punto in cui il vostro amplificatore satura e non vi sta amplificando niente. Sta semplicemente rimuovendo il disturbo. Voi avete segnale 0, l'amplificatore satura si spacca. Ho esagerato, ok? Però, tornando a proporzioni più ragionevoli, il vostro amplificatore, che come tutti gli amplificatori retrazionati ha già un limite di dinamica molto stretto e molto ben definito, in realtà sta sacrificando ancora parte di questa dinamica per eliminare il disturbo che gli arriva sull'alimentazione. Sto facendo i casi peggiori. Però è solo per farvi capire che se voi date un'alimentazione brutta, come è quella degli alimentatori switching, anche se è brutta a frequenze inudibili, in realtà vi sta facendo funzionare male il circuito che sta alimentando senza che neanche voi ve ne accorgiate. Qual è il risultato? Beh, quando l'amplificatore funziona male di solito suona peggio. Quindi lo stesso amplificatore, alimentato bene, gratis funzionerà meglio, ok? Non sono entrato in tutta una serie di questioni che riguardano l'interazione tra lo stadio d'alimentazione e lo stadio d'amplificazione, cioè come lo stadio d'alimentazione reagisce alle variazioni di assorbimento legate all'erogazione di potenza, perché anche qui ci sarebbe da farci una serie di video. Gli alimentatori switching sono di per sé già degli alimentatori retrazionati in maniera molto forte per riuscire a stabilizzare le tensioni e quindi questi anelli di retrazione interagiscono con il circuito d'amplificazione che magari neanche altri e modificano di fatto quella che è la normale erogazione del nostro segnale. Quindi ci sarebbero livelli di interazione anche molto complessi da andare ad esplorare. Ve la butto lì, vi accenno l'idea, perché nessun circuito è perfetto. Se avessimo l'alimentatore perfetto in una tecnologia X, cioè il generatore di tensione perfetto, mettiamola così, con qualunque tecnologia noi andiamo a costruirlo, tutto andrebbe benissimo. Il problema è non confondere i circuiti reali con i circuiti ideali. Un alimentatore non è un generatore di tensione perfetto, che voi lo stabilizziate linearmente così a uno switching fatto come accidenti volete, non è un generatore di tensione perfetto. Avrà delle interazioni con i circuiti seguenti e quindi il suono ne verrà modificato. Punto. In tutta questa cosa gli alimentatori passivi senza retroazione, senza stabilizzazione, sono quelli che hanno interazioni col circuito audio migliori di tutti. È chiaro? Sono più grossi, sono più pesanti, sono più ingombranti, sono più costosi, bisogna progettarli bene. Non basta prendere e attaccare lì. E quindi questo è un problema ed è un problema fondamentalmente di costo. Ma questi sono gli alimentatori che funzionano meglio per altri usi. Per altri usi no? Va bene. Se volete bombardarvi le orecchie con un kilowatt di potenza negli altoparlanti, compratevi un amplificatore switching alimentato da un alimentatore switching, tranquilli, fatelo con la mia benedizione. Se volete ascoltare musica bene, non è il sistema. Ci vogliono altri metodi sia per l'amplificazione sia per l'alimentazione della stessa. Vabbè, alla fine è uscito un pistolotto sull'alimentazione switching, però io spero che a spanne abbiamo ridotto a livello divulgativo una materia che è estremamente complessa. Però spero che almeno qualche concetto sia passato e possiate avere qualche idea in più sul perché e sul quando usare certi tipi di alimentazione, sul perché non usarli, sul perché non volerli nei propri apparecchi e cercare qualcosa di meglio a priori. In fondo lo scopo del video era questo, non di divulgare una filosofia, perché non di filosofia stiamo parlando, semplicemente darvi degli elementi per giudicare cosa funziona e cosa no? A dispetto di quella famosa marca inglese che a un certo punto della sua carriera ha venduto un alimentatore switching come upgrade per gli apparecchi che erano alimentati con un alimentatore lineare. Ora, non so quanto male fosse fatto l'alimentatore lineare precedente, ma sicuramente con quello switching dovevano fare decisamente più schifo di prima. Detto questo, se vi sono stato utile, spero di poterlo essere in futuro e quindi magari iscrivetevi al canale così non vi perdete altri video di questo tenore o di altro tenore perché poi alla fine ne faccio diversi. Mettete un like qua sotto, condividete il video su qualche social così almeno fate arrabbiare qualcuno, questo in fondo è il mio scopo della vita. E noi ci vediamo al prossimo video!